Carrà, Guttuso, Accardi, Palladino, i grandi maestri contemporanei in una collezione d'opere d'arte originali, in tiratura limitata, certificate da Editalia, Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per informazioni telefonate all'894 4080 e riceverete in omaggio il volume Capolavori dell'Arte Moltiplicata. Dai valore all'arte! Inizia oggi la tua collezione d'arte certificata. 894 4080